Musica Ma innestala bene sta vite, se no la spani, no? Ma cosa spano? Ma hai spanato una vite io? Ma come la tieni in mano la vitatore? Sei spaventoso, sei il mio salumiere. Non è mica un prosciutto quello di... Io lo tengo come mi pare, poi la tiene l'importante è il risultato. Ci vuole un certo stile nelle cose, io imbocco la vite come Valentino imbocco la curva, guarda così, e poi giù a manette. Hai già finito di smanettare? Devo fare benzo, sono rimasto a secco. Poi il salumiere sarei io, ma benzo te. Devo riempire il serbatoio. Eh, ce ne sta lì? Sento, questa cosa che è in corsa adesso il serbatoio è contingentato. Qualcuno rischia di rimanere veramente a secco. Oh, bom, sai che ho sentito una cosa? Adesso per diminuire di volume la benzina e farla entrare nel serbatoio, la congelano. Vuoi che non lo sappia? Quella di Valentino ce l'ho io nel freezer. Ma cosa mi racconti? Ma sì, perché di me si fida. Mi dice sempre, Bob, tienimela tu, che così sono tranquillo. È quasi un fatto di scheramanzia, capito? E io ci dovrei anche credere. E poi Vale è generoso, me ne lascia sempre un po' di più. E poi cosa ci fai? Il ghiacciolo per la micromoto dei bambini? Ma che bambini? La uso io la domenica. Quella lì come potenza è di poco inferiore al tritolo. No, non si può, stia lavorando. Ciao Luana. E Luana? Eh, ho capito, hai detto ciao Luana. Ah, bene, tua mamma ti ha aiutato a fare le pulizie, bene. Le fa bene muoversi per l'artrosi. Avete sbrinato il freezer, eh? Avete sbrinato il freezer? Come buttate via tutto? Ma non era lanciata andata male? Ma cosa me ne frega se avete preso la pizza suocelata che mi fa schifo? Sì, certo che grido, certo, quella lì non sta mai a casa sua. Hai capito? Per colpa di mia suocera. Adesso cosa gli racconto io al preziosi se Valentino rimane a secco in corsa? Gli dice che c'è una suocera golosa e il ghiacciolone se l'è sparato tutta lei. Ridi, ridi. Tanto la speranza di vincere il prossimo GP qua si sbriciola. Eh, vedi non sbriciolare in officina, va là. Oh Marco, ma com'è che sta suocera è di tutti e due e viene sempre solo a casa mia? Semplice. Rottweil, 80 chili, bava alla bocca, non si avvicina più di un chilometro. Sei spaventoso. Se lo tengo quello che mi pare, poi alla fine va a partire. Non è mica un po' giunto. Sì, spaventoso. Sì, spaventoso. Sì, spaventoso. Sì, spaventoso. Spaventoso.